Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Cosa stai facendo? Ma mi stai fatto in questo caso? Mi ha distratto Ragazzi avevo detto no 3 Non è vero! Sto scherzando ovviamente non c'è stato niente Ha controllato la circombalazione dei pantaloni Cioè hai fatto il testo rossi della prostata Guarda che ragazzi il test della prostata è importante Controllatevi ragazzi è importante questa cosa Io mi stavo soltanto accertando della sua salute Oh grazie Oddio Stiamo a non parlare di politica Ok 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 Perché io veramente mi dissocio Ok ok Ma vabbè allora per parte di politica Ho capito adesso perché quella mano No raga Vabbè è un meme Nicki A parte che ora non è neanche più illegale Sto tremando Nicki Nicki vabbè allora togliamo la politica Un bel maialone Lo vuoi sgagnare stasera? Brava Annalisa cavolo Lo sgagniamo del maialone Quando? Quando? E' da piccola si Non ho mai fatto nessuno su Twitch sul mio canale 10.000 secondi 10.000 secondi cos'è? Un'ora Ma sì zia la tier 2 Non credo di non avere neanche una sub tier 2 in vita mia Non la fa nessuno Credimi nelle maratone è possibile Ma non esistono Nelle maratone è possibile No io su questo sono sicuro che nessuno si subba tier 2 E cosa ti da a subarti tier 2? Niente Per questo che ti dico che non Non si può dal telefono Eh? Non si può dal telefono Si può Non si può dal telefono Come no? Scusa qualunico Tier 2 Un tier 2? Non è voluto C'è il microfono di Martina che sta puntando il cibo Ah Ah donna Ma tu pensa Mamma mia Ti sacrifici le tue La disola Tocca la tocca la prendi Tocca la tocca Tocca la tocca Ah ma perché l'ho toccato coi capelli forse Era un bel momento Cioè sentiamo vediamo vediamo la Comunque anche la chat Io vi sto leggendo Ma sta chiedendo E così anche questo content Ma rispondi Anche io che scappia la domanda Guardate Guardate Vediamo le lacrime Ti prego Buona Allora Allora Le parole Le parole Ti parlo io Si parla un pochino abbastanza Giadà stiamo scherzando Il mio focus della vita Nel impegnarmi ad ottenere x risultati però poi non mi sono mai sentita completa ragazzi scusate mi sto provando a fare un discorso serio sapete che è difficile del discorso di noi ormai sono in ebro tutti qua devo essere onesto è cambiato tutto ma amore che cazzo dici ma no cosa telecamere ma che stai dicendo ma tutto bene posso posso firmare che ma sei pazzo che non posso comparire che non so potrebbe essere un po tipo no lui è alto con gli occhi chiari e i capelli chiari e quindi non va bene no io è bruttissimo a dire però io un bottolo stereotipo di tipo che mi piace e i capelli chiari non va bene basso moro con gli occhi scuri però nicolas è super simpatico come tipo c'è caratterialmente nicolas è super quindi sono l'opposto del tuo tipo ideale esteticamente sì lui già il mio tipo capito non sono abituati ai complimenti dai io ragazzo scolato scusa diventa taccetto praticamente come andata niki la live si l'ho fatto dire che è fascista ma si capiva che non sentivo vero dai ma non c'è ci sono grossi problemi ragazzi qua the kids mi sa che non paga più guarda che io veramente lavoro con the kids guarda posso farti vedere il mio tiktok preferito in assoluto adesso mi tiri fuori sono a milano sono senza mutande no 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 che cos'è questo sono a milano e sono venuta senza mutande cm spero sia sicuro am 911 i модi mantiene super consapevolezza soluzioni lOrmai è davvero banale questo video bitty Basta, brutto. Brutto brutto. Trovare un altro, Gioe. No, basta, è l'unico che ho visto. Comunque, Nicky, vorrei dirti una cosa. Ciao. Ciao, Nicky. Ciao, ciao. Com'era? Invece era lui, mi metto dentro e faccio, ah, ci vediamo domani. Che senso? No, no, adesso tu lo chiami al telefono e gli dici... No, no, adesso lo chiami al telefono e gli dici, Nicola, ci sono quelli da Simone, tra quanto è che arrivi? E gli dirà, no, non vengo. E tu dici, no, stai scherzando, c'è proprio di... Ma non è vero. Devi proprio dire, no, ma non è vero. Ma mettiti sul microfono e se ti vedo il numero è finita. Devi proprio essere... Tu devi essere convinta che lui c'è. Votiamo Inis. La cosa che è un casino, sennò poi esce fuori un patatrack. Ma poi si è smontato il PC. Votiamo Iris. No, ma no! Non possiamo votare me. Ma no, ma se... Sì, anche perché sennò ti faccio vincere, quindi in effetti... Sì, vabbè, perché sennò poi pensi che... Chi ti ha fotografato da dietro, James? No, mi sono fotografato da sola col cavalletto, ragazzi. Non ci ero io in quella foto. Era fidanzata con... L'ha detto? Cioè, secondo me l'ha detto? L'hai detto? Sì. Posso provare? Le chiedo. Non è molto felice. Hai detto Sandro prima? Dopo che hai detto in butto, hai detto Sandro? Prima di svinterogine. Prima di svinterogine. Prima di svinterogine. Prima di svinterogine. Hai detto Sandro? Oddio, non so cosa ho fatto. Sì, sincera, tanto ormai siamo qua in live. È inutile stare qua a gagare. Vabbè. Sì, l'ho fatto. Cioè, non lo so se l'ho fatto. Non me ne sono accorta. Cioè, pensi che nella tua testa potrebbe uscire la voglia di dire Sandro? No, non lo so. Minchia, il zio. Non l'ho fatto! Svinterogine dopo il butto. Io non so. Raga, non l'ho fatto! Non l'ho fatto, mamma! Ma se lo dice? Cosa succede? Non sarebbe bellissimo che Naomi partecipasse finalmente al suo primo videoporno insieme a Martina con Joy? Dai, facciamolo. Ma lui si sente pronto, però. Tu ti senti pronto, Joy? Tu vorresti? Joy, tu sai che mi sarei debitore per tutta la vita? Cioè, sono io che ho messo in piedi questa cosa adesso in questi tre secondi. Io mi sento pronto. L'unica roba per cui ho paura. Sì. Non mi si alzi il cazzo perché di pronto due ragazze belle come vuoi mi sentono. Cioè, tu eri innamorata, no? Certo che eravamo innamorati, ma anche mio marito. Ma mio marito era bravo. Era un uomo bravo. Dico che era bravo perché era veramente bravo. Tutti lo dicevano. Non si poteva bisticciare. Facevo così. Basta! Quando io magari... Basta! Basta! Piantiamola qui! E non si poteva più bisticciare. Non abbiamo mai bisticciato perché lui mi bloccava. Basta! Basta! Finiamola qui! E non si poteva andare avanti. Era bello così. Me la ricordo sempre. Io ho le fotografie dappertutto, però una bella grossa. Io parlo con mio marito, però non mi rispondi. Io parlo sempre con mio marito. Anche adesso che è quattro anni che è morto. È quattro anni. Però ho il mio nipote che è sempre là. Il figlio. Ma 40 testa. Voi fate metà o...? Sì, metà. Ho fatto Rondo. Rondo! Rondo in the place. Per un momento pensavo fosse tornato King Ash. Mi senti un attimo. Rondo, tu sei pronto a suonare? Eh? Sì. Tu vuoi fare la digestione adesso? Sì, sì. Ragazzi, cosa dite se... Aspetta, me lo dici un attimo qua, per favore. Certo. Sei pronto a suonare? Sì. Adesso? Sì, sì. Se io vorrei fare un appello a King Ash, scusatemi. Cliccate qua. La troia! Porca puttana. Cento sabato. 20 secondi! No, adesso abbiamo un contesto, Simone. Adesso abbiamo un contesto, Simone. 18! 15 ore. 15! Iniziamolo ridendo. Fa ridere, no? Candi, tutti sorridenti. Certo, fa ridere. Certo che ti vengono a tenere compagnia se vuoi. Ma son 18 ore! Ma che cazzo tieni?! Ok, è l'ultima volta che ci vedete... È scaduto il vento. Vai! Così esatto! Allora, mi hai tre valori... Oh! Ma... 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 Mi hai fatto... Mi hai fatto di attra? No, 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 no. Che cazzo è? Ah, sta... Ah, no, 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 mi hai battito Instagram, scusatemi. Ma... Ma... Allora... Scusatemi, ragazzi. It is allo più pescino. Ach! Scrivetevi... Ah! Scrivetevi!